ciao sono giuseppe gandini oggi voglio presentare l'off cushion con le nuove confezioni sono queste sono molto più grandi rispetto a quelle di prima in modo che si può entrare bene con le mani per prelevare il prodotto abbiamo tre tipologie sono due prodotti da mescolare insieme in pari quantità perché tre tipologie abbiamo l'off cushion a 15 è un prodotto molto molto morbido serve per sostenere delle suole molto sensibili così non abbiamo la preoccupazione di dare troppa pressione sotto la suola mentre la 25 è già un prodotto è già un prodotto un po più consistente sempre da mescolare in pari quantità sempre da mescolare in pari quantità e anche questo va usato per un supporto della suola e per ammortizzare è un prodotto già un po più consistente possiamo usarlo tranquillamente su cavalli che non hanno nessun problema di sensibilità e da un buon sostegno e anche una memoria elastica molto importante vedete quando io schiaccio poi torna indietro e fa proprio una sorta di ammortizzatore a livello della suola va sempre sempre il magic cushion si scusate sempre l'off cushion va usato con una soletta perché non si appiccica la suola e perciò va sempre usato con una soletta e poi abbiamo la 35 che è un prodotto quello diciamo più consistente di tutti come short e va usato solo in casi particolari dove abbiamo bisogno di un sostegno molto forte dove non abbiamo preoccupazione di sensibilità della suola però abbiamo bisogno di un sostegno molto forte soprattutto questo si usa e consigliato sui posteriori perché comunque i generi posteriori non hanno delle suole sensibili e spesso volontieri hanno bisogno di un sostegno molto forte ecco il vantaggio di off cushion è che sullo stesso piede possiamo anche utilizzare due prodotti diversi perché comunque li dobbiamo modellare sulla suola decidiamo la quantità possiamo fare anche metà piede con un prodotto un po più morbido e metà piede se ha bisogno di più sostegno con la 35 che è un po più duro adesso andremo a fare un cavallo e vi farò vedere come si fa come si usa il cushion in due prodotti diversi in due diciamo la 35 abbinato alla 25